sia della guerra in Ucraina che del conflitto israelo-palestinese. Forti esplosioni questa mattina si sono udite nel centro di Sebastopoli, nella Crimea occupata, e il Ministero della Difesa russo riferisce che nella notte 35 droni sono stati intercettati sul Mar Dazov e sopra la Crimea. Ieri attacco russo con droni nella regione di Kharkiv. Una persona è rimasta ferita. Intanto Washington lancia l'allarme. Se non verranno approvati dal Congresso entro la fine dell'anno nuovi aiuti, Kiev resterà senza fondi. La guerra sarà vinta da Putin, ha dichiarato il consigliere per la sicurezza nazionale statunitense Jack Sullivan.